C'era la partita che era sbigliacciata da Sottotitoli. a cominciare a cominciare a cominciare a cominciare a cominciare qua stanno girando ragazzi mi sembra tutto corretto quanto state con te lo zeppare con te il vantaggio con il pareggio per il parecchio no, i gol del Triglia i gol del Triglia vanno divisi in gol con lo zeppa e in gol senza zeppa l'importanza è contraddistinto per lo zeppa si, ci viene forse neanche siamo? si salire no ma il settore allora ci deve stare un po' meno ok Siete pronti? Siete pronti? Mimmi, siete pronti? Siete pronti? 3, 2, 1, via! Siete pronti? Siete pronti? Siamo arrivati. attaccante pronto, portiere pronto, dico tiro, dopo il tuo tiro puoi tirare attaccante, sono pronto, tiro, arriva l'offensiva, e se in pianto la guarda, quale è fondamentale? Per favore facciamo silenzio che già stanno facendo master. Per favore facciamo silenzio. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.